e ben a tutti ragazzi e bentone qui sul mio canale sono alle gamer 97 e questo ci siamo qui su un appunto messo su track mania turbo iniziamo tutto senza perderci chiacchiere siamo qui con il la settima gara ed il terzo episodio sul track mania turbo e gioco che me l'ha regalato la ubisoft quindi la ringrazio quindi ringrazio la ubisoft e ragazzi vediamo oggi cosa riusciamo a fare l'altra volta non è andata malissimo abbiamo preso nostra prima medaglia d'oro e adesso vediamo qui cosa riusciamo a fare speriamo riusciamo a fare bene raga speriamo veramente di riuscirci a fare questa qua in 27 secondi 1 go 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 si corre si corre si corre vai così è rica 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 aspettate perché comunque di cuore manna domanda di ricanze capisce niente e qua mamma mia erica se c'è più la mano a sto gioco non c'è no rega non c'è credo non c'è credo rega era erano medaglia d'oro ci ha superato alla fine perché sono andato a sbattere no rega all'ultimo c'è medaglia d'oro persa all'ultimo rega peccato va bene comunque anche una medaglia d'argento ragazzi non è male assolutamente andiamo a farci qui la nostra seconda gara anzitutto sta forse anche un pochino il volume andiamo a farci qui la seconda gara di quest'oggi come on come on come on carica 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 e sto pronto si si medaglia d'oro questa è in 21 secondi ragazzi sarò ancora più difficile di quell'altra speriamo di riuscirci stavolta erica ma questa già parte rica ecco no peccato rega siamo andati a sbattere pure adesso comunque ragazzi le gare si stanno complicando sempre di più ottimo e come si fa a tornare in gara ah ecco ottimo va bene così abbiamo fatto il botto rega quindi questa gara mamma mia ok finita questa rega ha fatto un nuovo record che record ci ho messo 50 anni per finire questa gara vabbè rega non è andata benissimo questa gara ma assolutamente no qui dobbiamo ancora prendere la medaglia quindi ragazzi riproviamola assolutamente rega la dobbiamo riprovare perché non ci sto per non prendere nemmeno una medaglia quindi come on come on dai fammi giocare dai su si si medaglia d'oro dai one go si parte si parte si parte allora qui mi devo ricordare che qui abbiamo le curve infami c'è stato tipo il dribbling bella così bella sta curva rega mi è piaciuta sta botta l'hiamo fatta bene sta curva no lo sapevo io lo sapevo rega lo sapevo eravamo medaglia d'oro rega eravamo medaglia d'oro e invece ti ho mandato a far botta all'urto ti prego riadrissati è ancora sotto niente rega sta gara non va non va solamente rega sta gara riproviamo rega vai 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 così eh io ho detto però rega comunque adesso le gare si faranno molto più complicate riprova niente rega non non si riesce a far segala ma più che altro perché c'è i due buchi in là al centro che qui in realtà sono veramente complicati però vabbè dai rega ci riproviamo ultima volta come va va rega che dio c'è la mannibona e senza mutande dai 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 così dai così e che palle rega mamma mia ma perché rega mo lascio il gas non mi frega niente ecco manco ci arrivamo rega se lascio il gas ok vai che abbiamo fatto boh niente rega senza medaglia manca adesso vabbè rega la rifaremo la rifaremo assolutamente adesso andiamo a farci qui la nona gara di quest'oggi quindi la terza di quest'oggi ragazzi l'ottava ragazzi ci ha tolto anche un pochino di tempo però ragazzi nessun problema due uno via go 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 ci riproveremo dopo ragazzi dopo questa gara ci riproveremo assolutamente rega perché noi l'ho vinta oh rega bella sta gara ecco appena ho detto bella abbiamo fatto il chioppo ottimo eh certo ovvio si si guarda tu comincia ad andare io me la faccio di sotto ok allora dobbiamo ricominciare la gara due uno go rega comunque ragazzi stanno facendo veramente difficili queste gare purtroppo che poi purtroppo non è purtroppo rega perché più si fanno difficili più ci divertiamo guardate come vado di sotto adesso vado di sotto alto checkpoint cioè rega c'è due secondi quella qua la medaglia d'oro ci ha dato interessante vabbè speravo almeno eh ok buono rega buonissimo rega medaglia d'argento rega meglio di così penso che potremmo fare penso che potremmo fare davvero rega meglio di così allora ragazzi direi di concludere qui il video quindi spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre ricordo ti bevono nel su commentate condividete iscrivetevi al canale passate il link sotto in descrizione faccio facebook e sign naming e ragazzi volete un altro video su trackmania turbo arriviamo a 15 20 like e ve ne porto un altro e ringrazio ancora la ubisoft per avermi regalato questo gioco noi ci vediamo con un prossimo video e bella rega bella bella